buongiorno ti ricordate poco a nonna fanno poche bolle patate accendo? dai accendi, accendi apri il penno apri il penno ah ma tu piccolini si, non mi deve crescere chiudi un po' chiudi chiudi un po' ah di meno per quelle mo si iniziano a sganciare da soli per skype mettili dentro ma la rihanna stanno sganciando si sta sopra si sta sopra si sta sopra ah si ok chiedi 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 non puoi ma c'è la mariana ma la raga 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 non basta dai no 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 ma deve mettere qualcuno dai aspetta dai ah no 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 basta 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 oh mi so oh no basta basta vuoi un pisello no 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 raga quando sei più grande si ma adesso no 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 ma vabbè io ma questo ti chiedi ah che ne so è il vetrino vecchio di Elie che ce faceva il po' a pasino no no ragazzi no ragazzi no no ragazzi no 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 ma prendilo ma perchè? sono già finiti sono già finiti ho finito è blu è lì è lì no vabbè perché è lì? ma non giro ma tu l'hai sfruttata Mariana? mi sono preoccupata per il telefono mi sono spaventato vabbè vabbè ha fatto volo da macchina vedi che quello portavate a Benevento cioè per la strada dopo poi io va via Mariana ha coggiato il telefono e Giorgia va a fare la macchina io ci ho partito da casa la macchina mi ha portato il telefono il telefono è volato ma non si è rotto niente non si è rotto niente andiamo a fare una divertente però piano ma non si è rotto niente ma non si è rotto niente non si è rotto niente chiamati ragazzi ah 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 perché è un bel ah è un bel vuoi fare il filmino? no no non fai il filmino ah non sta male non ci vuoi dai ah 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 vedi di tirare addosso vedi di tirare addosso ah 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 no mi ha scattato in aria però ah 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 no 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 ok no ah vai Giorgia vai Giorgia catch it ah oh oh Maria no ah no no Elisabetta l'ultimo c'è grazie stanno pisciando ah vabbè 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 vai che è giusto vedete a provare basta, basta non si può adesso pensa sul potere che sei fidanzato basta basta ultimo giorgia giorgia forte 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 è una madonna aspetta dobbiamo fare i peli piedi se non è divertente ooo i bomboloni forse si si facciamo così aspetta no dovremmo fare vedete 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 Ma perché Iena? Ma a me sembra... Biselda. Attacca un poco. Ecco a lei! Mi vengono a cadere. Grazie. Oh no! A chi lo tiro? Ah ah. Dammi, dammi. Dammi la troia. Fala silenzione! Raga, facci nel gigante. Rega, questa cosa per metter' ligac, così sembra un'altra cosa. Questi sono bamboloni! Vai compi compa- nichts! Ehi, attenti, anche se non faccio il mio. Gado! Gado! No, vabbè, no, vabbè, no, vabbè. Dammi la destra, anzi, che ti sponfato, ti sponfato! Mamo, vengo io? No, vabbè. Ehi, lega un po'. Ehi, vieni a legare. No! Ehi, lega un po' Ehi, lega un po'. Ehi, lega un po'. Ma no, no! Gado! No! Mamma mia, lo sai che ci vuoi fare i pochini? E poi... No, ma... Mattia! Fai! No! Gado! Gado! Ehi, voglio un video, voglio un po' di capo! No! No! No, no, no! No! No, no! No, no! Alla prossima dei gay! Wuiii! Allora, aspetta, ho l'idea, ho l'idea. Allora, zonchiamoli prima tutti, oppure la metà e poi ce li lanciamo, ok? Allora io goffi e tu leghi, va bene? Però non troppo goffi. Troppo? Tanto goffi. No, molto goffi. No, regà, no, già, da lì qua. Un micino. Un micino, un micino, un micino. Qua sto il gatto? Qua sto il gatto? E' bello questo micino. Bellissima. E' bellissima. Bellissima, sì, sì, sì. Oh, oh. Tanto. Micio, perché ti giri? Oh! Oh, raga. Picciarvi, picciarvi. Aspetta, aspetta. No, non mi ha conto più sanno. No, no, no. Micio. Dammi qua. Le mie palle durante l'ora di me. No, a me durante le ore di italiano. Micio è un bastardo. Micio è un maranjitato. Italiano mi ha anche il po' che. Micio è un bastardo. Come una femmina. Micio. Che cosa è? Passa, 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 passa. Eppure l'ora di educazione cibo. Oh, attento. Vai. E vai, quello viola è mio. Sì. Pirino. Pietone. No, regà, facciamocire una testa. Miravo, Miriam. E ci ancora fa.